Le fiabe di Grimm Il lupo e i sette capretti C'era una volta una mamma capra che viveva in un grande bosco con i suoi sette capretti. Un giorno dovette lasciarli soli per andare a far provviste, ma prima di uscire li mise in guardia dal lupo cattivo. Cercherà di ingannarvi, ma lo riconoscerete subito dalla voce rauca e dalle zampe nere. Non aprite la porta! Poco dopo qualcuno bussò alla porta gridando Aprite cari piccini, sono la vostra mamma! Ma la voce era rauca, non dolce come quella della mamma, quindi i capretti risposero No, non ti apriamo! La tua voce è rauca! Sei il lupo! Allora il lupo pensò di inghiottire del miele